Buongiorno a tutti ragazzi, sono Alessandro Gamer85, oggi siamo a una festa che non vi posso spoilerare perché i problemi sono due, è un compleanno e non vengo questo posto, non vi rendete conto che posto che c'è qui e non avviso perché adesso durante la settimana siccome io avrò il concerto di Gali, ci sarà qualche video su un riassunto del video di... perché il video uscirà a lun... uscirà martedì, martedì, martedì cosa andrà a fare? Boh, uscirà forse verso le otto e mezza, o no, otto e mezza, nove, e non so cosa dire, infatti la pianta che bisogna vedere cosa bella, finta, finta, e... beh.